Adesso è il momento di parlare invece di ricordi, ricordi che ci accomunano, ricordi che ci permettono di condividere insieme pezzi del nostro passato e lo facciamo insieme a Valerio Londini. Grazie, grazie a tutti e sì, ho creato questa rubrica per fare un tuffo assieme con voi, con gli ascoltatori un po' più grandicelli, diciamo così, su alcune cose che… E poi spesso questo che tu stai proponendo oggi diventa argomento durante le scene, io mi ritrovo spesso durante le scene che so, ti ricordi la sigla dei cartoni animati, di quei cartoni animati, allora parte uno con una sigla e poi tutti quanti che ricordano le sigla, lo stesso vale per le vecchie pubblicità o lo stesso vale per i vecchi usi e costumi, insomma è una cosa tipica da situazione conviviale. Sì, ci sono tante immagini semplici, piccole, magari anche normali, inocue in qualche modo che ci riportano a un'infanzia, a un mondo che non c'è più e che non ci sarà più. E quindi oggi volevo così ricordarle assieme, magari chissà che io non faccia fare un sorriso di nostalgia a voi e ai vostri ascoltatori. Ricordo che quando guardavamo Winnie Pooh in tv da piccoli ci veniva sempre voglia di mangiare il miele come lui. Ricordo che noi, prima di internet, quando non riuscivamo a vedere un film in tv, dovevamo aspettare chissà quanto tempo per avere una seconda chance di vederlo in onda. Noi che facevamo i castelli di sabbia cercando di farli sempre più alti, ma poi crollavano sempre sul più bello. Noi che quando alla televisione sentivamo parlare lo scrittore Bruno Gambarotta percepivamo che nella sua parlata si poteva riscontrare un certo accento astigiano e nostro padre allora se la prendeva con mamma dicendo, e lui che cacchio ne sa di com'è l'accento astigiano? Che ne sa il bambino di come parlano asti? Te lo sei portato asti! Te lo sei portato asti quando non c'è! Noi che avevamo i cartoni animati più... Questa non è una cosa comune. Non l'ho capito. È una cosa più personale forse, credo, perché a me non l'ho capito. Ebbè è una cosa che succedeva quando ero piccolo e capitavano queste cose. Ma succedeva a te probabilmente. Vabbè comunque andiamo avanti. Ok, noi che avevamo i cartoni animati più belli di sempre. Noi che, se ci piaceva una canzone, la registravamo dalla radio e poi la risentivamo sulla cassetta. Noi che per riavvolgere la cassetta, spesso se non ci riuscivamo con lo stereo, dovevamo usare la penna. È vero, è verissimo. Noi che quando andavamo a casa di nonna, avevamo paura della sua cugina truccata da clown che ci dava i baci sul collo, perché le ricordavamo l'anziano marito defunto. Che cosa? Scusa questa cosa, però... Non ridere, rillo. No, non ridere perché non... No, c'erano le cassette, le audiocassette. No, no, quella che hai detto nella zia vestita da clown. La cugina della nonna. La cugina, la cugina. Si chiamava Adele. Ma una cosa che succedeva a te, tu andavi a casa di tua nonna? Io ero piccolo, quindi non avevo modo, non c'era internet per sapere se succedeva a tutti, ma immagino di sì come... C'è... Come le cassette... No, esatto di no. Ed avessi stata clown, la trovavi... Era molto truccata, perché non voleva invecchiare. Ah, tu pensavi fosse un clown. Sì, ma che era... No, no, questo a me non mi capisco. Tornando ai ricordi. Che ne sanno i più giovani di adesso di quando noi leggevamo le storie a Bivi su Topolino e aspettavamo il mercoledì per vedere come andavano a finire? È vero, è vero, è vero. Quanti ricordi a pensare a quando in televisione i film iniziavano sempre alle 20 e 30? È vero, è vero, è vero. Noi che quando andavamo a fare la spesa con nostra mamma, c'era papà che ci rincorreva per le scale del condominio strillando. Dammi le chiavi della macchina che lo stai portando ad Asti un'altra volta. Non lo portai ad Asti? È piccolo e non conosce quella città! Non lo so, io non me la ricordo, a me non è mai capitata veramente, scusami ma... Che c'è? Rido perché dico che cosa strana che... Non ce lo ricordiamo. No, probabilmente accadeva solo a te, no, scusami se hai rito, scusami, magari è una cosa tua, scusami. Vabbè, poi c'era noi che quando andavamo a scuola avevamo il grembiule blu i maschi e quello bianco. Esatto, questo me lo ricordo pure io. E questo, spero di avervi regalato un po' di ricordi di un tempo che non c'è più. Una parte di quello che hai detto mi sono ritrovato, grazie. Ciao ragazzi.